Non toglieranno il presidio, almeno fino a quando non saranno ascoltati dal sindaco i lavoratori dei servizi sociali rimasti fuori dalla Messina Social City. Ieri, dopo un'infocata seduta delle commissioni settima e ottava, riunite congiuntamente, avevano deciso di protestare occupando pacificamente l'aula consigliare, nell'attesa che l'amministrazione, invitata in commissione ma assente, decidesse di ascoltarli. Ma nessun confronto a quanto pare sarà possibile, almeno stando a quanto scritto dal sindaco Cateno De Luca nel suo profilo. Credo che certe pressioni stiano andando oltre il limite della decenza e del buon tonno istituzionale, asserisce il primo cittadino, bacchettando tanto coloro che protestano quanto i consiglieri comunali. Ho chiesto già la redazione di un complessivo dossier riguardante le precedenti modalità di gestione del servizio e quelle attualmente avviate con la Messina Social City, compreso i criteri adottati per la contrattualizzazione delle risorse umane. Se nella fretta di far partire il nuovo modello sono stati commessi degli errori, saranno prontamente corretti. Quando il dossier sui servizi sociali sarà pronto lo esamineremo in consiglio comunale. Intanto, ribadisce il sindaco, non ho apprezzato l'odierna occupazione dei banchi riservati all'amministrazione in consiglio da parte di ignoti e confermo che nessun dialogo potranno avere con il sindaco, con l'amministrazione comunale, coloro che agiscono con queste modalità. Nel frattempo, conclude De Luca, è giunto il momento di applicare il nuovo regolamento di funzionamento delle commissioni e del consiglio comunale. La data delle adunanze e gli argomenti da trattare quando viene richiesta la presenza dell'amministrazione vanno definite preventivamente con la stessa amministrazione onde evitare sedute improvviso o improvvisate che non sortiscono il naturale effetto istituzionale ma rischiano di apparire, non addetti ai lavori, delle vere e proprie imboscate.